È semaforo rosso per l'inquinamento in tutto il nord Italia. Stop alle auto e blocco dei diesel Euro 5 a Torino e ad Alessandria. Divieti confermati a Milano fino agli Euro 4 e a Cremona si fermano pure i veicoli commerciali. Sono scattate come era prevedibile le misure anti-smog in considerazione dell'innalzamento dei livelli di polveri sottili anche se gli esperti si dividono sui provvedimenti adottati. Il diesel, dicono, è il principale imputato nelle emissioni del particolato ma non è l'unico e se il capoluogo di regione piemontese è da tempo in memore fra le città più inquinate d'Europa ed è in Italia fra quelle con i più alti tassi di mortalità legata alle malattie delle vie respiratorie, resta anche il fatto che morfologicamente il nord ovest è circondato dalle montagne su quasi tre lati e a maggior ragione vive la situazione più critica. La cappa di smog che in questi giorni toglie visibilità e soffoca chi vive in questo pezzo d'Italia viene contrastata non solo con i blocchi stradali in vigore da oggi e fino al 9 gennaio anche appunto sui diesel Euro 5, sei matricolati prima del 2013 e i benzina Euro 1 in Torino città e in altri 11 comuni della cintura ma va da sé che anche altri accorgimenti sono fondamentali per cercare di arginare il fenomeno. Il protocollo prevede anche per Alessandria e in provincia a Novi Ligure il limite a 19 gradi con tolleranza di 2 nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali e tornando alle auto le private devono rispettare il divieto dalle 8.30 alle 18.30 mentre i veicoli commerciali diesel fino a Euro 4 dalle 8.30 alle 18.30 e stop poi ai veicoli commerciali diesel Euro 5 dalle 8.30 alle 12.30. Va da sé che va usato anche il buonsenso, divieto di sosta con il motore acceso, divieto di utilizzo dei generatori a biomassa legnosa, divieto assoluto di combustibili all'aperto, divieto di spandimento di liquami zootecnici. Domani il nuovo rilevamento curato da Arpa Piemonte della presenza di polveri sottili nell'aria rileverà se sia necessario o meno proseguire con lo stop e, viste le annunciate previsioni di alta pressione, incombe una risposta positiva.